Sì, è venuta qua per la ricostruzione della saletta qua, sulla destra. Allora, con la fresa andrò a togliere il colore. È molto più giallo, quindi forse ho te l'ha dato male perché vi... Andiamo con questa tabella dei colori. Vedi signora, eccolo qua. Guardi quanto sono belle. E' rifiusi a S.M.R. Salve cara. Buongiorno, benvenuta. Sì, è venuta qua per la ricostruzione. Ok, mi dici solo un nome e un nome che guardo un attimo. Scusa un attimo. Sì, ciao Carla. Ciao, sì. Domani mattina alle 8 per il massaggio puntuale. Mi raccomando. Che la mia collega ti aspetta. Grazie. Intanto, buona giornata tesoro. Ciao. Ciao. Scusami tesoro, ti dicevo nome e cognome. Ok. Perfetto. Allora, la mia collega ti aspetta qua. Nella saletta qua, sulla destra. Noi ci vediamo dopo. Ok. A dopo. Salve cara. Ciao. Mi chiamo Eri Fusi. Per piacere. E' la prima volta che vieni qua. Bene tesoro, bene. Ok. Sei qua per la ricostruzione, giusto? Bene. Allora, iniziamo subito a farvi vedere queste mani. Oh, vediamo. Ah, ma l'avevi già fatta. Quindi è da togliere il cervecchio. Vediamo un'altra. Sì, però, queste mani, queste unghie, posso sapere chi le ha fatte? Perché sono un po' fatte male, sai? No, la forma è bella. La forma è bella, però sono fatte male. Eh, sì. Allora, qua bisogna fare un bel lavoro, eh. Intanto bisogna andare a togliere tutto il residuo. Andare a pulire le pelle in unghia. E poi andiamo a rifarle, ok? E dopo, tranquilla, dopo scegliamo il colore. Allora, io adesso ti prenderò le unghie. Così, con la fresa, andrò a togliere il colore. E poi andremo a dare il colore nuovo, ok? Sei pronta? Allora, inizio, eh. Bene. Se senti male, me lo dici, eh. Allora, inizio, eh. Allora. Allora. Grazie. Ok, bravissima, non fa male vero? Ok, perfetto, tranquilla tesoro, tranquilla, che adesso le sistemiamo a noi, le due conchi, ok? Tranquilla, ci sono io. Grazie. Dammi il pollice, perfetto. Grazie. Ok, una mano l'abbiamo fatta tesoro. Com'è andata? Bene, 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 bene. Partiamo con l'altra, ok? Ok, no, no, non preoccuparti, vedrai. Allora, vedi, il colore qua non è dei migliori, quindi vado. Grazie. 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 Come? Scusa? No, no, tranquilla, tranquillissima. Grazie. 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 Volevo farti Una domanda Ma chi ha scelto il colore Questo giallo uovo Perché allora ti dico Se l'abbiamo anche noi Nella nostra tabella Però il nostro Diciamo che è molto più giallo Quindi forse Ho te l'ha dato male Perché vedi Ti faccio vedere Vedi quante striature ci sono Ecco queste non vanno bene Va dato omogeneicamente Il colore Il colore Il colore Il colore Oh bene Perfetto Allora Allora Andiamo a spenellare un attimino Allora Tesoro Abbiamo tolto Tutta 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 Le occhie Adesso Io ti vado A sgrassare A sgrassare Sgrassare No Non ti preoccuparti Sono tranquilla Allora andiamo Utilizzerò Questo sgrassare Questo sgrassare 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 Prima di tutto Prima di tutto Stammi un po' Più distanziata Con le mani Ecco Bravissima Andiamo a dare Questo primer Che va dato Prima Della unghia Insomma Va dato Prima del gel Ok Ok E va lasciato asciugare Fin qua tutto bene? Bene bene Sono contenta Ok 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 No No Non ti preoccupare Tesoro Ok Bene 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 Mi fa piacere Mi fa piacere Tesoro Mi fa piacere Eh sì Ti aveva un po' Rovinato le mani eh Si vuol dire così Che te le ha Un po' rovinate Eh sì Allora Ecco la presa Abbiamo già sistemato Tutto il letto Unqueale Adesso Delicatamente Se trovo L'attrezzo Eccolo qua Ti vado a spingere Un po' le cuticole Però Io non vado A Tagliarle Perché Dopo Con questo Primer qua Che ti ho dato Può bruciare E allora Preferisco A spingerle Delicatamente Un pochino Così Ok Dimmi se ti faccio male Ok Benissimo tesoro Ok Molto 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 bene Arrivo 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 Ecco 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 Allora Benissimo Spingiamo 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 Allora Primer Fatto Effetto Ok Adesso Ti vado a dare Una base Lucidante La base lucidante La base lucidante Che Prima di darti il colore Effettivo Ok Allora Dove ho messo il pennello? Ho perso il pennello Ho perso il pennello Ogni tanto si prendono il pennello Bene Bene Allora Io vado con la base eh Mi raccomando Tranquilla Serena Parto da E dopo decidiamo il colore intanto eh Non ti preoccupare Ok Decidiamo il colore Che vuoi Benissimo Oh Questo Ecco Ok Ecco qua Ecco qua Prego 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 Qua sotto Ok Ti accompagno Ok Intanto io vado con l'altra mano eh Bene Bene Benissimo Ok 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 No no Non ti preoccupare Tesoro Di dry Che sarà un successo Bene Tesoro Ok Poi pure eh Ok Ti accompagno Con l'altra mano Perfetto Ok Allora Intanto Andiamo a scegliere il colore Ok Che colore Allora Intanto Cosa voleva fare Aveva già idea Ah Ok Per Halloween Ok Quindi Va bene Verdi e blu Niente Allora ok Verdi e blu Le escludiamo già Andiamo con questa tabella di colori Queste qua Le escludiamo Questa tabella Andiamo con questa Perfetto Allora Colore Guardi Allora Intanto di cosa si voleva vestire Da strega Allora Se le posso consigliare Abbiamo questo sugli Bellissimo Questo qua È un sugli Bello scuro 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 Oppure c'è un viola Normale Viola normale Questo qua Poi abbiamo un glicide Oppure se vuole stare leggera Abbiamo questo lilla Molto molto delicato Quale Indeciso Tra questi due Vero? Lo sapevo No Piacciono anche a me Tanto Eh sì Piacciono anche a me Al sugli Al sugli Scuro Che è quello Un po' più chiaro Che è questo qua Questo Vero? Va bene Allora facciamo questo Deciso Perfetto Perfetto Prendo pure l'altra mano Ok Grazie Speriamo un po' Allora Bene Inizio Inizio eh Inizio col colore Il viola sul di scuro Dovrebbe essere questo qua Se non sbaglio Sì È questo È quello più scuro Aspetta che guardo eh Allora vado eh Ah no È quello leggermente più chiaro Va bene Va bene Ecco qua Allora Andiamo a dare il colore Allora Si vede qua Il modo omogeneo Che viene dato Vede signora Eccolo qua Questo è il modo omogeneo In cui viene dato il colore Deve essere dato In questa maniera Omogeneicamente Parlando E Senza Senza Sbavature Senza Stigature E quello l'importante Senza la sbavatura Va tolta Subito 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 In questo modo Adesso qua Se ho fatto un po' di casino Però Rimediamo subito Ok Allora Poi andiamo a sigillare il tutto Ok Allora mi raccomando Io adesso le dico Con la massima Precisione Quando andrà a mettere Le unghie in lampada Di metterle Dritte Se è possibile Se Ce la fa A mettere le dritte Le mette dritte Ok Bene Ok Benissimo Ok Ok Mamma mia Che Robalto tutto Robalto 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 tutto Eh sì Mamma mia Allora Benissimo Bene 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 Adesso Due minuti in lampada L'accompagno Prego Mi raccomando Mi raccomando Mi tenga le dita dritte Ecco qua Grazie Perfetto No no Non si preoccupi Un po' più avanti Grazie Perfetto Ok Benissimo Allora Intanto Io la vado A dipingere L'altra mano Ok Allora In minuti Eh sì Perché noi Guardiamo sempre i minuti Signora Allora Come le dicevo Va dato Omogenea Molto Omogenea 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 Eccoci qua Allora Benissimo Bene 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 Molto Molto bene Ok Veramente Veramente Bello Ok Signora Vedrà come è rilassante Molto molto bene, aspettiamo un altro pochetto, che intanto si asciuga di là, bene signora, mi auguro che le piaccia questo trattamento che le facciamo e che sia soddisfatta soprattutto, ecco. Certo, 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 certamente signora, ma si figuri, ma stiamo scherzando, allora vediamo un attimo, ok, mi faccio vedere, bene, questo è asciutto, allora vado pure in lampada, ok, l'accompagno, eh, bene. Ok, attento le dita, mi raccomando, le dita dritte, ok, perfetto. Ok, ok, che bel colore, finalmente, un colore serio, e così è pronta per altri, signora. Già, ecco qua, guardi quanto sono belle, sono bellissime. Allora, ora vi andrò a mettere un stitillante che si asciuga da solo, è sempre in gel, ma si asciuga da solo, quindi così si affrettano anche i tempi. Allora, eccole qua, signora, le piacciono, belle, vero? Molto, molto belle, è un bel colore anche, eh, si, le devo dire che è un bel colore. Sì, è proprio bello, allora, io le vado a mettere un gel che si asciuga da solo, ed è anche come finish. Ok, benissimo, ok, bene, 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 bene. Ok, 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 perfetto. Allora, esca pure dalla lampada. Ok, perfetto. Vediamo qua, come è andata, oh, perfetto. Che colore, ragazzi, che colore. Cioè, adorello. Adoro questo colore, signora. Cioè, le sue mani sono orinate, cioè, no, veramente. Allora, le applico sempre il gel. Ok. Ok. Bene. Perfetto. Bene, l'ultima. Bene, signora. Io direi che siamo a posto. Adesso vi vado a dare un olio per cuticole. Questo olio qua, che è dorato, ma dopo, dopo va via. Il dorato va via, però è anche molto approfumato, va a lenire un attimo. Le scottature della lampada, ok. Ok. Eh, io le devo fare ancora le uniche. Sì, sì, signora. Oddio. Le devo fare. Esatto. Bene. A posto, signora. Allora, guardi. Le faccio vedere. Mi dia le mani. Guardi. Quanto sono belle. Guardi, ma guardi. Come le sono venute bene. Cioè, sono bellissime. Cioè, guardi. Guardi, signora, il colore. Quanto è bello. È bellissimo il colore. È contenta. Sì, anch'io del lavoro che ho fatto sono veramente contenta. Bene, signora. Allora ci vediamo la prossima volta. Sa comodi pure in casa che la mia collega la riceve. Grazie. Ma grazie mille, signora. Quasi mi cura. A presto. Ciao. Arrivederci. Allora, signora, come è andata? Tutto bene? Bene, sono contenta. Vi faccio vedere come sono venute. Oh my God. No, eh, lo dicevo. Le nostre onico-tecniche sono sempre così bravi, gentili, ma anche fanno dei lavori. Guardi, l'altra mano è bellissima. Fanno dei lavori strepidosi. Complimenti. Oddio. Bene. Allora vado a farle la ricevuta intanto, ok? Ok, bene. Ma subito. Oh my God. Oggi, oggi è una segreteria telefonica che non può immaginare. Chiamate a nonno. Sì, pronto? Ah, ok, sì. La ceretta, l'inguine e gambe. Anche le braccia. Per quando? Ok, lunedì prossimo. No, lunedì. Eh, ti ricordo che lunedì siamo chiusi. Martedì. Facciamo martedì. Bene. Allora scrivo martedì. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Scusami, sai, scusami tanto. Allora, prego. E... Banco, matto con tanti? Banco, matto, ok. Allora appoggi pure qua, sai. Appoggi pure qua. Perfetto. Ora puoi digitare pure il PIN. Digiti pure il PIN. Perfetto. Ecco qua, signora. Questa è la sua ricetta. Le prendo l'appuntamento per il prossimo mese. Ok. Ha già una data. Ok, sempre di martedì. Va bene. Preferisce mattina o pomeriggio? Pomeriggio. Perfetto. Sì, scritto. Le lascio un piccolo fromemoria. Scrivo il fromemoria con il nostro piettino da visita. Eccolo qua. Questo è il suo fromemoria. E noi ci vediamo il mese prossimo. Grazie, signora. Arrivederci.